Allora siamo con Luigi Milone qui al Morever, questa splendida location dove Taranto Comics 2024, tra pochi minuti avrà il suo avvio. Questa location molto ovviamente diventerà di cartello perché è troppo bella. Beh, possiamo già definirla di cartello essendo che abbiamo confermato questa location per il terzo anno consecutivo diventando di fatto la nostra edizione primavera-estate, anzi siamo sulla primavera ma tra un po' secondo me scoppierà l'estate per via del caldo che almeno io sto già percependo. Quindi vogliamo dire brevemente qualcosa su cosa succederà tra i prossimi minuti? Come nostra tradizione saranno due giorni all'insegna del divertimento e con l'incontro con degli ospiti d'eccezione perché basta guardare sui nostri social il calendario degli eventi che abbiamo pubblicato e gli ospiti che abbiamo quest'anno solo per citarne alcuni da Stefani Hermes che ha realizzato la bellissima illustrazione che capeggia per le strade della città per questa edizione di maggio, per passare da Yoshiko Watanabe, Il Baffo, Maurizio Merluzzo, Gianluca Iacuni e tanti altri, Chris Fit, insomma adesso quelli che mi vengono, però vedete, scaricate il programma dalle nostre pagine Facebook e Instagram e buon divertimento a tutti. Buon divertimento e grazie per la vostra animosità e il vostro impegno su tutto questo mondo. Taranto ha bisogno di cose belle e noi siamo una delle cose belle di Taranto. Grazie. Ciao.